Mancano due giornate alla fine del campionato di prima divisione di pallavolo femminile. Il papiro volley di Giovanni Spanò si appresta a chiudere a centro classifica questa stagione che è stata di assestamento per la divisione rosa del club del presidente Davide Massimino. Ha anticipato a mercoledì il proprio impegno nella terz'ultima di campionato con le ragazze fiumefreddesi che hanno perso in casa al Palamendola contro la Cavolle i tre mestieri per 3-7-1 con i parziali di 25-21, 24-26, 25-22, 25-18 con Messina e compagne che sono incappate in una serata storta. Sabato prossimo il papiro renderà visita alla Condor Mister Bianco che milita al sesto posto. Settimo invece il papiro a 28 punti che con la sconfitta con Laca ha perso l'opportunità di avvicinare le prime posizioni.